Sì, avevamo bisogno di una prestazione di questo tipo perché le ultime due partite al di là del pareggio con il Torino ci avevano lasciato alcune perplessità, vedevamo la squadra un po' sconcentrata, un po' demotivata. Oggi abbiamo dimostrato di essere degni del posto che occupiamo in classifica e della squadra che abbiamo messo a disposizione di Gubaldinetti. Doveva essere così, questo è quello che abbiamo detto nello spogliatoio prima della partita, doveva essere una partenza sprint e dovevamo fare la prestazione che abbiamo fatto. Quindi il presidente che sono io è soddisfatto della prestazione e del segnale che abbiamo mandato. Noi sicuramente puntiamo al primo posto e diciamo che ovviamente è un gioco e bisogna fare i conti con gli avversari e li rispettiamo tutti. Però il posto che ci compete a questo punto siamo campioni d'inverno mutuando una parola, un'espressione galcistica e quindi vogliamo rimanere anche fra 11 giornate sempre al primo posto.